La scientifica in azione nel bar, ristorante e pizzeria Il Tagliere è un incendio, quello scoppiato ieri, che ha distrutto gran parte degli arredi interni del locale, i vigili del fuoco e poi anche la polizia scientifica che sta eseguendo i sopralluoghi all'interno del locale di via Calamartia a Cagliari. Bisogna fare ancora la conta dei danni e capire soprattutto le cause del rogo e le prossime ore potrebbero essere decisive per avere un quadro della situazione abbastanza chiaro. I proprietari sinora non parlano, scelgono di non parlare, è una scelta comprensibile visto comunque l'episodio in quanto è avvenuto un incendio che ha devastato il locale proprio a ridosso degli ultimi giorni dell'anno. Per fortuna al momento dell'incendio non c'era nessuno all'interno del ristorante e pizzeria Il Tagliere.